Abbiamo avuto tutti quanti pochissimo tempo per preparare la gara, è un calendario che mette alla frusta ogni squadra, i calciatori perché non hanno modo di recuperare e anche la preparazione alla partita è molto difficoltosa per tutti gli staff tecnici. Abbiamo poco tempo e in una seduta devi preparare la partita successiva, le analogie stanno tutte qua, poi come partita affrontiamo un avversario che secondo me è una delle squadre che gioca meglio nel nostro girone, non dobbiamo farci abbagliare dalla classifica, è una squadra giovane, è veramente bene in campo, anche l'ultima partita contro la Reggiana che sta dominando il campionato è andata in palese difficoltà contro il Grosseto, così come lo sono andate tutte le squadre che hanno affrontato. Quindi servirà un teramo di grande attenzione, di grande sacrificio perché ci saranno dei momenti della partita in cui secondo me andremo, mi auguro di no, ma andremo in difficoltà e dobbiamo saper difenderci in blocco perché se no riescono a farti girare e a farti correre.